Grazie a tutti. Sono davvero contenta oggi di avere, quindi saluto e ringrazio, la dottoressa Monica Maggioni, direttrice editoriale per l'offerta informativa, che è accompagnata dalla dottoressa Angela Mariella, direttrice delle relazioni istituzionali. Questa audizione l'abbiamo voluta certamente all'unanimità perché abbiamo piacere di ascoltarla. Questa Commissione ha anche necessità di sentire direttamente dalla voce di chi vive e lavora in RAI, quali sono le sfide, quali sono le necessità, le urgenze e in che misura il suo lavoro può essere messo anche a disposizione di questa stessa Commissione per comprenderne le dinamiche per fare anche ragionamenti prospettici rispetto al servizio pubblico. Le lascio la parola, dopodiché i commissari potranno, se vorranno, porle delle domande. L'unico limite che ci diamo è concludere entro le 9, 9 e 10 perché poi oggi abbiamo una votazione importante alla Camera. Le passo la parola e grazie ancora. Grazie, ecco qua. Grazie Presidente, grazie a lei e a tutti i commissari in presenza da remoto. Io sarò estremamente sintetica ma cercherò di dirvi di che cosa mi sto occupando in questo momento nel ruolo aziendale, quindi al di là di quello che è invece poi il mio impegno professionale rispetto alla conduzione e cercherò di farlo per dire quanto quello di cui mi sto occupando in questa fase potrebbe anche essere oggetto di un lavoro sul quale la Commissione potrebbe avere un ruolo importante. Nella direzione editoriale per l'offerta informativa, oltre a una serie di questioni sul funzionamento quotidiano dell'offerta informativa, si stanno aprendo una serie di riflessioni da una parte sull'informazione dentro Rai e in particolare sollecitati anche dal contratto di servizio sulla qualità dell'informazione e come direzione stiamo lavorando sul tema della qualità dell'informazione anche in coordinamento con la Presidenza per cercare di capire se e come da una parte misurare la qualità dell'informazione dentro Rai, dall'altra parte rendere questa misurazione uno stimolo rispetto al lavoro quotidiano e infine come rendere questo percorso visibile rispetto all'esterno, quindi farlo diventare parte di un discorso che ci lega a questo punto ai cittadini, ai nostri reali editori e quindi come si dice in questi casi esporre il metodo, cioè parlare di qualità dell'informazione all'esterno per dire Rai è un luogo dove ci si pone il problema della qualità dell'informazione. Che cosa è stato fatto in questi mesi e che cosa abbiamo in mente di fare? In questi mesi abbiamo fatto sostanzialmente un'analisi del modo in cui questo tema è stato affrontato fin qui e quello che viene fuori è una rappresentazione per cui da una parte ci sono elementi normativi molto rigidi che però fotografano stati di fatto del passato e di conseguenza c'è una volontà prescrittiva molto forte che però nei fatti risulta abbastanza inadeguata rispetto a quello che abbiamo di fronte in termini di problemi e di sfide quotidiane. Dall'altra parte c'è una tendenza a utilizzare indicatori che risolvono il problema della qualità dell'informazione in una serie di formule che via via si sono rese negli anni sempre più difficili da accettare perché il dibattito sulla qualità dell'informazione è molto grande, supera i limiti del nostro paese. È un dibattito che per esempio in sede di EBU e di servizi pubblici europei vede coinvolte moltissime persone e per cui inserire indicatori come l'obiettività ci si è resi conto che è totalmente inutile, totalmente fuori dalla possibilità reale di dire che cos'è un'informazione di qualità. E allora ci si è resi conto che per esempio andare avanti per indicatori fissi o interloquire quei vari soggetti che poi misurano queste cose secondo indicatori preesistenti è poco sensato. Di conseguenza abbiamo cominciato a lavorare con l'osservatorio di Pavia che so che anche in commissione è stato audito e che è un nostro referente chiave anche per ripensare questi strumenti. Stiamo lavorando con istituti di ricerca come l'ISIM e con le università. Adesso stiamo per allargare anche alle varie scuole di giornalismo perché in fondo se questo lavoro ha un senso è un senso anche prospettico, è anche un senso rispetto a chi sta entrando nel mondo del giornalismo e forse è bene che venga esposto a questi temi e a questi ragionamenti. Per cui dicevo tutta questa parte di lavoro è una parte preparatoria che vuole arrivare poi a dei momenti anche pubblici di dibattito e di incontro con i cittadini sul discorso della qualità dell'informazione e che diventerà appunto parte di un percorso che faremo anche in giro per l'Italia utilizzando le varie sedi quindi coinvolgendo anche le realtà regionali, coinvolgendo le realtà locali. Insomma un modo per dire che RAI non solo si interroga su queste cose, non solo si mette per prima in discussione su queste cose ma si fa promotrice dentro il paese di un'attenzione a questi temi con due secondo me grandi punti di attenzione che sottopongono anche alla vostra attenzione che non possono essere trascurati. Da una parte il fatto che ragionare di qualità dell'informazione deve essere un esercizio alto e di costruzione e quindi non deve essere la ricerca dell'ennesima scappatoia. Diamo i voti all'informazione della RAI e diciamo che cosa vale 2, che cosa vale 7 perché abbiamo perso la partita. Cioè la partita è cercare di lavorare insieme sui temi che costruiscono qualità e sulle modalità che costruiscono qualità e questo è un aspetto e l'altro aspetto secondo me determinante è quello di farlo dentro la consapevolezza della sfida che abbiamo tutti davanti. RAI ha una battaglia da vincere ma il problema che però non ce l'ha RAI ma ce l'ha il paese ed è quella con l'informazione generata dentro l'ambiente digitale. Noi rispetto a questo abbiamo un problema perché non siamo ancora pronti ad affrontare questa sfida. Stiamo cercando di farlo il più rapidamente possibile, stiamo studiando quali sono gli strumenti per svolgere il nostro ruolo di servizio pubblico, anche in un ambiente che sta mutando di ora in ora. Io venivo in questo simpatico e importante luogo anni fa dicendo nei prossimi anni succederà. No, adesso è finita quella narrazione lì, adesso sta succedendo e noi stiamo perdendo la capacità di avere gli strumenti giusti per, non dico vincere perché io sul vincere ho dei punti di domanda enormi, ma almeno per misurarci con una sfida che è una sfida esistenziale. Allora, non sapere ancora oggi, e questo però ci accomuna tutti perché il dibattito è aperto anche dentro i servizi pubblici europei, non sapere oggi come gestire il rapporto con l'informazione generata da AI è un tema. È un tema soprattutto perché ormai lo vediamo anche da consumatori e da utenti finali che la capacità di interferenza rispetto alla generazione di informazioni è enorme. Allora, forse immaginare che RAI sia anche il luogo dove ci si mette a studiare questa cosa in modo sistematico e lo stiamo tentando di costruire gli strumenti per farlo. ci si coordina a livello europeo perché non è né una battaglia né un tentativo di percorso che si fa da soli, ma c'è bisogno di un dimensionamento e di capacità, strumenti, tecnologie, unione di cervelli che vadano molto al di là dei limiti nazionali e che tutto questo però diventa centrale rispetto alla vita del Paese e quindi è una missione che RAI deve fare non in modo laterale ma centrale a me sembra alla fine il messaggio chiave. Vedete, parlare di qualità dell'informazione che è importantissimo anche nella vecchia accezione però perde di qualsiasi senso se non lo si mette in questa prospettiva perché nel momento in cui tu non sarai più in grado di capire se un'informazione l'ha generata a RAI, l'ha generata a un soggetto reale o è stata generata dall'intelligenza artificiale, se è stata generata perché dietro c'è una volontà di strumentalizzazione o perché peggio ancora, dico io, c'è una casualità assoluta. Ecco, questi elementi secondo me devono farci pensare che quel lavoro non è un simpatico esercizio retorico per trovarci un giorno a un bel convegno e dire quanto dovremmo essere tutti più bravi o siamo bravi o non lo siamo, ma lì dentro c'è il senso del lavoro che RAI deve fare in questi anni. E chiudo dicendo due cose, proprio partendo da questa che può sembrare la coda ma secondo me è il centro del discorso, penso che questo sia uno dei luoghi che potrebbe con RAI camminare dentro questo tipo di discorso, dentro questo tipo di analisi perché anche il ruolo della Commissione è centrale rispetto a questa evoluzione ed è centrale in una RAI che mi sembra diventare troppo spesso o troppo facilmente bersaglio di tutto e di tutti dimenticandosi che il tema chiave non è bersagliare RAI ma chiedersi se quello strumento lì che ancora oggi qualsiasi tipo di indicatore lega direttamente alla qualità democratica di un Paese, più il servizio pubblico è forte, più il Paese ha migliori performance democratiche. Ecco, se non sia venuto il momento di ridare valore e centralità al lavoro che RAI fa e a chi in RAI lavora. Perché da una parte l'indebolimento oggettivo legato alle risorse e dall'altra parte l'attenzione politica costante intorno a RAI, secondo me rischiano non di, come dire, sostanzialmente rischiano di non fare il bene di questo Paese perché minare la credibilità e la centralità del servizio pubblico è minare uno strumento che continua ad essere uno strumento chiave e deve essere uno strumento chiave. Questo non vuol dire non criticarlo, non migliorarlo, non lavorare insieme per renderlo più efficiente, ma significa non perdere di vista il fatto che il servizio pubblico è un momento centrale della vita del Paese. Peraltro stamattina lo dice persino Pier Silvio Berlusconi in una sua lunga intervista e quindi mi sento, come dire, confortata ad ampio spettro nel sostenere questa cosa. La ringrazio e questa Presidenza e la Commissione tutta sposa questa necessità di sfide, tanto che nell'ufficio di Presidenza che ha preceduto la sua audizione abbiamo proprio convenuto nel dedicare una intera seduta a ragionare su come poter strutturare i lavori per affrontare le sfide che non sono più del futuro, come diceva lei, ma proprio del presente e anche ragionare su come muoverci per la funzione che riguarda l'atto di indirizzo di questa Commissione e quindi non solo ed esclusivamente di vigilanza che ovviamente è pur necessaria. Grazie davvero per il suo contributo e se c'è qualche commissario che vuole intervenire cominciamo sì col Senatore Gasparri. Grazie. Ma intanto le considerazioni sono assolutamente sagge e condivisibili perché poi la RAI, che è la questione permanente di cos'è la RAI, come va la RAI, vediamo il dibattito anche oggi sui giornali che poi in realtà va avanti, la RAI a volte si dovrebbe difendere da se stessa più che dall'esterno perché alla fine anche sulla questione degli ascolti e lì si era pure se ne è accennato, c'è un programma che va meglio, uno che va peggio, anche nel passato dei programmi sono andati male, sono stati chiusi, adesso non lo so in questa stagione quali resisteranno meno. La considerazione che voleva fare Monica Mangioni che proprio lei è l'esempio della continuità della RAI, perché poi nella RAI si cambiano anche i ruoli, siccome si parla molto chi resta, chi se ne va, uno può fare il Presidente, il Direttore del Tg1, oggi avere una responsabilità di una trasmissione importante che poi in questo momento di guerra e di conflitti è uno spazio di approfondimento e di riflessione anche utile al di là della discussione quotidiana per capire quello che sta succedendo in questo momento. Quindi una considerazione positiva sull'attività che svolge la Presidente Mangioni e anche su come la RAI riesce poi a valersi delle sue professionalità interne in varie stagioni come accade nella politica, come un giorno fa una cosa, un giorno fa un'altra, può accadere anche nel giornalismo nella dirigenza della RAI. La domanda che volevo fare a Monica Mangioni proprio in ragione del suo percorso, avendo fatto la Presidente, il Direttore dell'Orincipale d'Esta, un po' l'inviata, un po' tutto, RAI News e compagnia, io ho espressi dei dubbi anni fa sul passaggio dalle reti ai generi. L'andamento stagionale della RAI mi conferma questo giudizio, perché se c'è qualche defianza, qualche problema è proprio perché non si capisce più chi fa cosa, c'è questo sistema a strati, perché tu non sai quella trasmissione di chi è alle 11, poi quello va sotto la cultura perché si ritiene intellettuale, quell'altro così. A mio avviso se c'è qualche problema è proprio in questo tipo di organizzazione che fa anche voi perdere probabilmente identità a delle reti, a delle offerte, perché poi è molto complicato intrecciare palinsesti, è vero che ci sono i dirigenzi del palinsesto, dell'offerta, c'è di tutto nell'organigramma. Io voglio chiedere una riflessione, e presto, perché sono pochi mesi che poi questa cosa funziona, proprio dall'alto della sua molteplice esperienza, questo tipo di assetto organizzativo aziendale è migliore o è peggiore di quello del passato che era un po' classico delle reti o meno, visto dall'esterno non mi pare, forse questa può essere una delle cause di qualche squilibrio di questa fase. Grazie Senatore Bergesio, prego. Grazie Presidente, grazie Direttore della Qualità dell'Informazione della RAI, della prima azienda culturale del Paese, poi ieri sera anche quando ci siamo intervenuti abbiamo ascoltato più volte alcune riflessioni che sono state fatte, ma probabilmente da parte politica diversa dalla nostra, relativa all'aspetto del canone, al taglio del canone che noi riteniamo che sia stato un messaggio straordinariamente importante alle famiglie, al Paese, ma anche alla stessa RAI, anche perché io credo che ci sia la volontà da parte del Governo non di ridurre, ma dall'altra parte mettendo dei fondi ad hoc per gli investimenti e per adeguare le produzioni sia stato importante dare un segnale forte, perché a volte i segnali di cambiamento aiutano anche a fare delle riflessioni e a rimettersi in marcia in modo adeguato. Dico questo per collegarmi all'aspetto perché ritengo che proprio il suo ruolo oggi sia importante, perché andare a identificare, come già stato detto anche in precedenza, qual è l'offerta informativa migliore anche per collegarsi, volente o nolente, a quelli che poi sono gli indici di riferimento della prima azienda culturale del Paese, gli ascolti, soprattutto le fasce di ascolto, la capacità di incentivare i giovani, la capacità di rivolgersi anche e soprattutto, e lo chiedo anche a lei, che ruolo può giocare RAI Play, perché a mio avviso oggi su questo tema noi dimentichiamo, magari vengono usati i social per cose diverse, ma su questo tema di RAI Play io credo che la RAI è una grande sfida, che nei prossimi, non dobbiamo parlare 4-5 anni, ma nei prossimi mesi bisogna affrontare velocemente, perché qui può essere l'ottica dell'investimento che deve essere fatto. E poi lei gestisce una trasmissione importante come quella di mezz'ora e io credo che anche lì le volevo chiedere come sta andando e soprattutto se c'è spazio magari o se avete intenzione magari di adottare anche delle novità in merito a questa trasmissione, soprattutto sui temi che vengono affrontati, sugli argomenti e di conseguenza anche su coloro che verrebbero individuati per essere poi intervistati dall'altra parte per fornire questa informazione così importante e in modo adeguato che ha bisogno il Paese, sempre tenendo presente che il messaggio che deve essere dato, come abbiamo scritto noi e approvato sul contratto di servizio, deve essere sempre un messaggio di livello alto dal punto di vista informativo ma anche e soprattutto che possa essere fruito da tutti perché sappiamo che il pubblico della RAI è sempre molto variegato. Grazie Presidente. Grazie, la senatrice Gelmini. Grazie, mi scuso per essere arrivata un po' in ritardo ma ascoltando l'ultima parte del suo intervento ho colto un atteggiamento molto rispettoso nei confronti di questa commissione che ovviamente svolge un ruolo di vigilanza ma anche che è molto attenta al tema della qualità dell'informazione. Oggi non c'è un problema di accessibilità c'è un problema di qualità e soprattutto di lotta alle fake news e non solo di trasparenza ma di veridicità delle informazioni che arrivano. Lo abbiamo visto durante la pandemia ma vale anche adesso dove siamo nel mezzo di conflitti molto delicati e del rischio di un'escalation in Medio Oriente e quindi le posizioni credo che debbano essere rappresentate con grande equilibrio. Ecco, la domanda è secondo lei cosa si può fare per rafforzare, migliorare la qualità delle informazioni anche come diceva il collego per avvicinare la RAI ai giovani? C'è questo problema, ne abbiamo parlato anche durante la stesura del parere sul contratto di servizio, cosa possiamo fare per rendere la RAI più vicina al mondo giovanile, per allargare il pubblico al mondo dei giovani? Grazie. Grazie, onorevole caro tenuto. Sì, grazie. Io vorrei domandarmi se, va bene, innanzitutto se lei ha un'idea di quello che sarà l'informazione nel futuro, da qui nel breve e poi soprattutto nel lungo periodo e di quale missione dovrebbe svolgere il servizio pubblico radio e televisione l'informazione nel futuro, proprio di fronte a quegli scenari che lei stessa ci ha rappresentato. E se non ritiene che di fronte alla polarizzazione del dibattito politico ma anche rispetto a tutti i temi dell'attualità che ci è offerta dai social, dai social network che generano praticamente delle bolle di realtà individuali a uso e consumo di ogni singolo utente, il servizio pubblico debba in qualche modo riuscire a estromettersi da qualsiasi tipo di propaganda che possa essere utile a questo o a quel partito per rendersi autorevole e punto di riferimento perché chiaramente noi siamo bombardati da informazioni, ormai siamo in un'infodenia e questo cambia chiaramente la vita di ogni cittadino tantissimo e quindi se abbiamo tante informazioni è evidente che avremo bisogno di punti di riferimento importanti ma quando poi di fronte a una notizia riportata in un certo modo troviamo nel nostro social una realtà totalmente diversa, chiaramente poi tutto perde autorevolezza e allora perciò come si recupera questa autorevolezza dal suo punto di vista, come la RAI può tornare a avere un ruolo centrale da questo punto di vista, grazie. Grazie a lei, credo che sia l'ultimo intervento quello dell'onorevole Graziano da remoto. Eccoci Presidente, buongiorno e innanzitutto buongiorno alla dottoressa Maggioni, grazie per la... E non la sentiamo? Mi sente? Adesso che ha detto mi sente, sì. Eccoci. Proviamo a... Prego. Allora, grazie alla dottoressa Maggioni per una relazione molto puntuale ma soprattutto io ritengo che abbia centrato l'obiettivo, cioè il tema di fondo di oggi e qual è l'offerta informativa che noi facciamo domani sulla vicenda della RAI perché ovviamente le difficoltà... E non avrà una buona... Gestire, dice. No, non l'abbiamo risentita. Forte capacità di poter gestire. Mi sente? Ora di nuovo? Eh no, vai e viene la voce. Pronto? Provi a spostarsi. Mi sente ora? Sì, adesso sì, riprovi. Allora, dicevo, quindi a mio avviso la dottoressa Maggioni ha centrato l'obiettivo, il tema fondamentale è quello del... di come la RAI si posiziona sull'offerta informativa, ovviamente ce l'hanno anche gli altri servizi pubblici d'Europa, noi qui abbiamo un tema ancora più pressante per le condizioni in cui versa la RAI e per le difficoltà in cui sta. per cui io le chiedevo, dottoressa, proprio in particolare delle cose, quali sono le azioni di programma e quali sono le cose che sostanzialmente possiamo fare noi come vigilanza per dare una mano in questa direzione, perché non è la sfida del futuro. Io direi non è nemmeno la sfida del presente, io direi è la sfida di ieri. Quindi, cioè, siamo in forte ritardo e su questo, a mio avviso, dobbiamo accelerare tutti insieme per provare a salvare quello che per noi è fondamentale, un servizio pubblico di qualità. Mi fermerei qui. Grazie. Grazie a lei. Se non ci sono altri interventi, lascerei la parola alla dottoressa Maggioni. Grazie. Cerco con grande rapidità di passare attraverso i temi e magari parto proprio dalla sollecitazione dell'onorevole Graziano quando riceve la sfida di ieri. Ecco, uno può pensare quello che vuole della RAI di oggi e io, come dire, apprezzo la diversità delle opinioni proprio per natura, quindi va benissimo. La RAI di oggi è una RAI che è stata costruita negli ultimi anni, non è nata questa mattina sotto un cavolo. Per cui, se la RAI sta perdendo o ha perso alcune sfide, le ha perse anno dopo anno. E su questo bisogna essere onesti, perché serve una base di onestà intellettuale se insieme si vuole lavorare per decidere dove andare o che cosa fare. Allora, sul digitale è evidente che noi abbiamo una retratezza, perché poi se ne parla, ma quando si tratta di dare le priorità delle cose e poi alla fine diventano sempre prioritari altre cose, è chiaro che a questo punto deve diventare priorità. È altrettanto chiaro che per diventare rilevanti nel digitale e RAI Play è un buonissimo inizio, ma largamente è solo un inizio, c'è un lavoro da fare molto forte nelle piattaforme, bisogna andare là dove i giovani sono, perché credo che sia un'esperienza che possiamo condividere tutti, se uno ha un figlio, ha un nipote, ha un fratellino, chiede quanti telegiornali vedi al mese, la risposta è zero. Non è uno, uno ogni tanto, uno se mi capita, o vieni legato da un familiare sopra i 50 anni davanti alla televisione o se no questa cosa non accade. E è chiaro che noi che siamo così fortissimamente solo concentrati in quel tipo di offerta lineare stiamo perdendo la possibilità. Guardate, c'è un grafico bellissimo, purtroppo non ve l'ho portato, ma oggi siamo di corsa una volta, se volete lo facciamo, vi farei vedere quanta parte di BBC è fruita digitalmente e quanta parte di BBC è fruita linearmente. Il punto di contatto tra BBC e le altre televisioni europee è con la RAI, cioè la RAI è la meno fruita digitalmente di tutti i servizi pubblici europei, la BBC quella di più. Quindi il tema è tutto lì, se uno volesse dire prospetticamente che cosa si può fare o dove bisogna lavorare, anche perché, vedete, io ormai sono vecchietta, per cui comunque qualche annetto questa situazione tirerà avanti per forza, anche in modo sempre meno impattante e sempre meno rilevante, ma pensare di affidare il servizio pubblico a una morte che non è manco lenta ma è proprio veloce, mentre invece è lì che bisogna andare a lavorare, è un'idea alla quale non riesco a abituarmi. E allora, le vorrei dire, senatore Vercesio, verissimo che ci volevate dare un messaggio, se ce lo davate invece che tagliando il canone e scrivendoci andava meglio, nel senso che, ok, l'avremmo recepito lo stesso, è una battuta, me la consenta, è veramente una battuta ma insomma andava bene anche una lettera, ecco, non è che serviva proprio il taglio. Detto questo, canone o non canone, fiscalità generale o non fiscalità generale, c'è un'unica cosa che chiunque di voi ha un'esperienza là fuori, di azienda, di lavoro, di presenza sul mercato, c'è un'unica cosa che non si può mettere in discussione, la certezza delle risorse, quali esse siano, però o un'azienda ha davanti la possibilità di dire per i prossimi tre anni, faccio questo business plan, oriento le risorse in questo modo, le gestisco in questo e allora tu sei in grado anche di fare un progetto o senza certezza di risorse, che vuole anche dire che magari l'anno prossimo me ne dai X in più, ma non lo so oggi, non posso fare progettualità aziendale su quello. E questo è un nodo sul quale tutti i servizi pubblici europei battono ed è un vero problema, perché appunto basta aver gestito l'impresa di casa, non serve se stati CEO di chissà quale grande azienda, per sapere che una progettualità tu la puoi solo ancorare alla certezza delle risorse. Questo mi sento di dirlo non in luogo di nessun altro, ma solo ed esclusivamente per quella che è la mia storia dentro l'azienda. E allora di nuovo, avere le risorse per fare che cosa? Anche per ripensarsi, che secondo me è il tema chiave in questo momento, ripensarsi proprio nella chiave di dire noi decidiamo di parlare con le persone che saranno classe dirigente di questo paese fra due anni, tre anni, cinque anni, perché non sono i quindicenni che non ci seguono più, basta andare attorno ai 30 o ai 35 anni per sparire completamente. Allora questa sfida la vogliamo vincere, la vogliamo rendere centrale o no? È chiaro che renderla centrale richiede un ripensamento complessivo. Dopodiché se noi continuiamo tutti a dedicare il 90% delle nostre attenzioni, tempo, forze e capacità allineare, questa sfida non la vinceremo mai perché finché non si sentirà che attorno a questa sfida si coagula una reale progettualità anche politica e lasciatemelo dire in questa sede che rispetto così profondamente da credere che possa essere veramente il luogo in cui si dice andiamo in una direzione al di là delle differenze di posizione, al di là delle differenze di impostazione. Se anche da qui non parte questo tipo di messaggio la RAI non ce la può fare e non ce la può fare perché il non farcela della RAI, vedete, oggi può sembrare la RAI di qualcuno, ieri di qualcun altro, domani di qualcun altro ancora. Siccome io penso che la RAI è del Paese, io penso che il non farcela della RAI vuol dire che il tema che sollevava lei, senatore Carotenuto, su chi parla dentro le eco chambers, chi parla solo con quelli con cui vuole parlare eccetera, diventerà centrale. Anche la politica non saprà più come raggiungere le persone, anche la politica non saprà più quali messaggi rendere prioritari rispetto alle scelte di un Paese. Allora forse ricostruire un luogo nel quale la credibilità delle informazioni che vengono date e questo RAI lo fa perché comunque piaccia o no RAI a dei giornalisti che rispondono a delle logiche di metodo, perché fare i giornalisti e farlo in modo professionale significa verificare le fonti, usare certe fonti piuttosto che altre, non raccattare le cose e buttarle in rete dopo due minuti. Insomma o noi recuperiamo quel tipo di impostazione lì che RAI comunque ha e lo rendiamo un valore e lo rendiamo un valore anche dentro il digitale, per cui la riconoscibilità del marchio diventa una delle chiavi con le quali gestire l'informazione anche nel digitale o se no la sfida oggi sembra che la perderai, di fatto la perde il Paese. Sto facendo le risposte a ritroso per cui vedo di non perdere niente, ma ho due minuti esatti, per cui se andre c'è Gelmini, ecco i giovani è un po' questa la risposta e invece, ah senatore Gasparri, sì, reti, generi eccetera, è sicuramente qualcosa che è rimasto a metà strada, come tante cose sono rimaste a metà strada, perché lei si era giustamente mosso un attimo, io dicevo attenzione che i problemi della RAI non è che sono nati stamattina, cioè ci sono una serie di problemi che sono frutto di una serie di cose che si sono accumulate negli anni. È vero, io penso che la questione dell'identità sia un tema chiave, per cui è vero che una direzione di rete costruiva un palinsesto più identitario, più riconoscibile, che questo probabilmente veniva percepito anche all'esterno. La scelta di costruire generi è una scelta che aveva in sé un'idea di razionalizzazione anche nell'uso delle risorse, quindi non è che fosse campata per aria, voleva puntare a non sovrapporre e a razionalizzare l'utilizzo delle risorse. Credo che se si tiene questo tipo di impostazione, bisogna fare un altro passo avanti nel costruire le identità editoriali, non è che stamattina alle 9.05 la soluzione, ma è sicuramente un punto su cui riflettere, per cui se la strada è torno indietro, no, probabilmente no, ma devo capire come ritrovare dei luoghi in cui l'identità editoriale delle varie reti si declina, perché se no è vero che si sente questa sorta di orizzontalizzazione dell'offerta che poi non corrisponde al modo in cui uno poi fruisce i canali andando a scegliere reti che avevano delle identità più definite. Quindi questo sicuramente, ma è oggetto di riflessione anche in azienda. Grazie Presidente, grazie a tutti.